Siamo nel nostro eterno viaggio nel fisco italiano e i nostri viandanti di oggi sono due ospiti cari e noti. Sono Riccardo Baldini, commercialista, partner dello studio legale Bonelli Erede, esperto di fiscalità internazionale e nazionale, grazie, ben trovato. E Gianluca Baldini, giornalista, collega di Blue Rating, uno dei famosi siti di finanza italiani, nonché prestigiosa firma di una serie di testate tra cui Libero, ha preso da quest'ansia compulsiva, scrive di finanza sempre. Sempre troppo, grazie a voi. Anche troppo, grazie. Allora, oggi parliamo di un tema che è quello delle imprese e il fisco. Non è un tema nuovo, però è il tema del collaborazionismo, cioè tra quest'ansia collaborativa con cui Rossello Orlandi, direttrice dell'Agenzia delle Entrate, vorrebbe che si si approcciasse al pagamento delle tasse.